musica io stasera vedi a merito rocco a merito non c'enterebbe E basta, lo potete pagare Michele, Pascale, Gesuni, Gugliandro, Matteo, eh, quello pigliapiglia, quello pigliapiglia, quello pigliapiglia, 200 euro, 300 euro, 300 euro, 300 euro, a casa, eh, ciao Rocco, per chi non ci interessa, per chi viaggia non può stare in Italia, e se ne vuole fanno bene, giusto, se no non partecipare non interessa, giusto, quando non lavoro, poi te ne vanno a casa, poi te ne metti, e allora vedi giù, ed è così io so, per chi cade noi, non siamo capaci, e poi se giriamo insieme, siamo un impero, e non siamo capaci, ma facciamo, scusci, stiamo a dormire, guarda, stiamo a dormire, stiamo a dormire, per noi, si, non cambia niente, per noi, per noi, non dovete fare le mani, e non solo problema, non lo facciamo, non lo facciamo, non lo facciamo, non lo facciamo, no, no, ma poi, si fa fare le due cazzo, esatto, eh, buonanotte, 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 si, ciao, buonanotte.